Ciao amici, ciao amiche! This is Jaya, the Indian Girl, welcome back to my YouTube channel! Oggi un video prettamente fashionista, quindi tutte le fashioniste tra voi, mi raccomando, drizzate le antenne! Ecco un video su tre proposte outfit, tre inspiration, spero che questi outfit vi possano piacere, vi possano ispirare, se è così e volete altri video di questo genere, mi raccomando, commentate sotto questo video con hashtag JayaStyle. Se vi piace il mio stile e volete saperne di più e se volete avere ispirazioni, fashion tutti i giorni, non dimenticate di seguirmi sulla mia pagina ufficiale di Instagram, all'indirizzo I am the Indian Girl. Ma adesso, prima di iniziare, non dimenticate di lasciarmi un piccolo pollice alzato, voi lo sapete quanto sono importanti i vostri feedback e ovviamente, se non siete ancora iscritti al mio canale, don't forget to subscribe! Ma adesso, io direi di cominciare con questo video fashion, let's go! Per questo video ho scelto tre outfit casual chic, quale sarà il vostro preferito? Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti e intanto scopriamoli assieme! Per il primo outfit, un grande classico, i miei adorati pantaloni cino neri, che sono davvero perfetti per ogni outfit e ogni occasione. Abbinati alle mie bellissime casadei nuove e, ovviamente, ad una t-shirt bianca statement. Voi sapete quanto le uso. Per complicare il look, ovviamente un blazer, perché già lo sapete quanto sono ossessionata da questo capo. Ed eccolo qui, il look terminato, perfetto, veloce, semplice, ma di grande effetto. Adatto veramente ad ogni occasione. Secondo look e seconda scarpa che adoro, le mie amatissime e intoccabili, pure da me, Louboutin. Questa volta, invece di una t-shirt, opto per una camicetta bianca con delle frills sulle spalle. Semplice, ma elegante. Culotte nere comodissime, con un dettaglio in più. Le bretelline con i fronzoli. Non sono adorabili? Completo il look con la Michael Corr rossa, che riprende la suola delle Louboutin, e il mio fedelissimo blazer. Un look elegante, ma sbarazzino, casuale e chic. Io lo adoro, e voi? Terzo e ultimo look. Questa volta gioco con una camicia bianca con troppi bottoni per i miei gusti, le mie altissime Casa Day, e una lunghet nera, un grande classico. A completare il look, un maglioncino modello Chanel con perle a bottoncino, ma potete utilizzare anche un maglioncino chiuso, e una classica borsa tracolla nera in pelle, con motivo coccodrillato. Per me, un grande classico. Evergreen e intramontabile. E questi erano i primi tre outfit casual chic di questo fashion tour. Non vedo l'ora di sapere qual è il vostro preferito. Se questo video vi è piaciuto, e se volete vedere altri video di questo genere sul mio canale, commentate con hashtag JayaStyle. Grazie mille per aver guardato questo video fino adesso, e ci vediamo al prossimo fashion tour. Ciao ciao!